Grazie a tutti. 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 Vai, 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 vai. dai 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 Bravo, bravo! Dai, bravo! Dai, finita! Dai, bravo! E destra! E destra! Destra! Destra, destra! E destra! Strati! Bravo! 1,2, 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 1,2 Terza e ultima difesa Adesso vado, per esempio Adesso vado, per esempio Puoi sempre Vai bravo bravo vai 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 cosi i motri qui c'è dai 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 bravo vai 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 bravo bravo vai 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 dai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.